E' ormai acclamato il braccio di ferro tra il governo e la regione Piemonte sull'ordinanza firmata nei giorni scorsi da Cirio con cui si chiede alle scuole di verificare che le famiglie abbiano effettivamente ottemperato all'obbligo previsto dallo Stato di misurare la temperatura ai figli prima di mandarli a scuola. In quello che sembra un vero e proprio scontro politico il governo tramite i ministri Azzoline e Speranza è ricorso al TAR richiedendo che l'ordinanza definita inopportuna e in tempestiva venga impugnata. Una storia già scritta che non ha trovato impreparato il governatore piemontese il quale dal canto suo ha già messo in campo due contrattacchi. Il primo quello di ottenere dallo stesso tribunale amministrativo la possibilità di esporre le ragioni dell'ordinanza e il secondo quello di affidare al professor Vittorio Borasio tra i massimi esperti di diritto amministrativo l'incarico di recarsi al TAR per difendere un'azione che per Cirio ha il solo fine di tutelare la salute degli alunni, personale scolastico e le loro famiglie. Il tutto nell'ottica di difendere con forza una decisione che secondo il governo subalpino oltre a essere utile e necessaria ricade pienamente nelle competenze della regione chiamata al rispetto della tutela della salute dei cittadini. Un'ordinanza ancora secondo Cirio che di fatto integra le regole previste dal governo di far misurare la febbre alle famiglie introducendo un meccanismo di controllo in più proprio per fare in modo che l'obbligo statale sia rispettato. Insomma la regione si sente nel giusto, più totale e precisa che nell'attesa del pronunciamento del TAR la regola introdotta continuerà ad essere in vigore. Ma intanto su più fronti politici di minoranza la decisione di Cirio ha scatenato polemiche infuocando il clima preelettorale. Marco Grimaldi, consigliere regionale LUV, in una nota ieri pomeriggio si è rivolto in dialetto piemontesi andando a scomodare il comandante generale Bricarasio con la sua storica frase Bojanen invitando Cirio a non fare il boccia. Il PD ha invece parlato di un ennesimo passo falso della giunta mentre la Lega in difesa della decisione piemontese ha scritto con grande sprezzo del ridicolo e nessun senso del rischio la ministra con delega i banchi a rotelle si incapponisce contro uno dei pochi provvedimenti di buonsenso. E in attesa della decisione del TAR la battaglia tra Roma e Piemonte è appena cominciata.